ingredienti dosi per quattro persone 700 grammi di cipolle 200 grammi di farina 100 grammi di burro 250 grammi di pane un bicchiere di vino bianco secco due dadi da brodo 6 cucchiai di olio sale pepe parmigiano grattugiato preparazione soffriggere con l'olio il burro e le cipolle affettate poi salare e pepare aggiungere la farina e farla asciugare versare il vino un litro e mezzo di brodo e mescolare cuocere per circa due ore versare la zuppa sulle fette di pane passate prima in forno cospargere con parmigiano grattugiato e servire il piatto è pronto buon appetito